La Virtus soffre più del previsto contro Trento, ma alla fine vince dopo un overtime 95-88. Primo posto consolidato, dodicesima vittoria consecutiva in Serie A e imbattività casalinga mantenuta. Unico Neo, l'infortuno di Cordinier, contusione alla spalla sinistra per i francesi, da valutare nelle prossime ore. A metà del secondo quarto, però, l'assegafredo ha toccato anche il più 17, ma dopo l'intervallo lungo ha rallentato il ritmo di gioco e gli ospiti, con Flaccadori e Reynolds su tutti, ne hanno approfittato per rientrare in gara. L'assenza di JT sotto canestro si è fatta sentire, superlativa la prova di Schenghelia, così come è stato prezioso l'apporto di Hackett nel finale. Abbiamo avuto questo infortunio di Cordinier che speriamo non sia nulla, che ha un po' così disorientato gli altri compagni, quindi abbiamo avuto un momento di difficoltà, però alla fine l'abbiamo portato a casa. Qual è l'aspetto che lei ha piaciuto di più di questa sera? Ma alla fine il carattere della squadra, che alla fine ha voluto vincere a tutti i costi con questi grandi campioni che hanno dimostrato grande voglia in tutte le occasioni di combattere. Parto dagli ultimi, Schenghelia e Hackett, che veramente alla fine sono stati determinati negli ultimi minuti. Un giudizio che su Menion le chiede? Menion molto bene, credo che abbia fatto un'ottima partita, in grande crescita. La fortitudine invece piange, non solo per le dicende extracampo degli ultimi giorni, ma anche per la sconfitta di Pesaro, che brucia ancora e che potrebbe risultare a fine stagione decisiva. La F, spinta da circa 1000 tifosi nel seguito della squadra alla Vitifrigo Arena, per ben tre volte scappa sulla doppia cifra di vantaggio, tuttavia si fa sempre recuperare dalla VL. A nulla è servito tirare con circa 60% dall'arco dei tre punti, perché i bolognesi hanno concesso 43 rimbalze agli avversari, catturandone solamente 19. Delfine e Moretti sono i migliori della compagine marchigiana, per l'Aquila, Benefelde e Neradori, anche se il classe 88 avrebbe potuto prendersi l'ultimo tiro al posto di lasciare la responsabilità che all'Ampopoulos. Trento, Varese, che oggi ha generato Roikers per condotta non in linea con i club, Napoli e Reggio Emilia i prossimi ostacoli, per sperare in un vero e proprio miracolo. Triviso e Napoli, infatti, distano ancora due vittorie di margine. Partita che si è decisa con un episodio sostanzialmente, c'è un dato che sicuramente ci penalizza, che lo stava facendo anche nel primo tempo, forse parzialmente mascherato dalle nostre percentuali al tiro, che sono quelli dei rimbalzi, perché comunque perdere 43 a 19 nell'arco dei 40 minuti significa concedere tanti extra possessi.